E gli è l'allergia, c'è il poline per l'aria, l'altronde ultimamente questo poline dà fastidio Se può tupire neanche per dire le goccioline, ti fanno gli occhini Ma quello gli è un discorso dell'allergia, non può far nulla in un'estate Ditta anche l'allergia è il fieno, lo fa ai cambio stagione L'allergia la fa, gli ha il fieno, insomma, e lo fa Se chi ti tocca pigliare i vixinex, i vixinex, capito, ti brucia Ti brucia, davvero c'è tanta gente che ne soffre, tantissime, ne soffre Ma proprio no, ma poi gli spruzzini per il naso danno noia Poi quando sale e scendono, danno, bruciano, ti gestano, proprio gli spruzzini